Forza, cara, resisti! Ci siamo quasi! Oh no! Ci hanno visto, vero? Niente cibo negli ospedali! Sta bene, niente paura! Oh, poverina! Resisti, sto arrivando! Forza! Come mai non funziona? Ma che cosa? Ma che cosa? È un'ingottita di dolci di ogni tipo! Scappo! Dov'è la cartella di quel paziente? Ragazzi, che fame! Niente cibo! La dottoressa! Non c'è niente da vedere qui! Girati! Sto solo seguendo i suoi ordini! Vede? Non c'è niente! Le mani? Oh, certo, subito! Ma come ci è riuscita? Ci è mancato poco! Fammi vedere anche i palmi! Delle mani? Vede? Niente! Mi servono gli occhiali nuovi, accidenti! Saranno allucinazioni, forse? Va bene, entra! Oh no! Mi scivola! No! È un lecca-lecca! Esci subito di qui! Sì, prendo questo e vado! Che roba! Ce l'avevo quasi fatta! Forse la mia maglietta potrebbe aiutarmi! Ma sì, certo che funzionerà! Basta solo un po' di nastro biadesivo... Così... Ed ecco il lecca-lecca al suo posto! Ideona geniale, vero? Ci sta anche bene! Proviamo! Adesso mai più! Dove stai andando? Girati e fammi vedere sotto le maniche! Vede? Non c'è niente! Va bene, dai! Ha funzionato! Meno male che ho messo quella maglietta oggi! Ho sentito qualcuno! Ehi! Fermati! Che c'è? Niente dolci in ospedale! Vedi? Dallo subito a me! Forza! Cosa? È impazzita! L'ho appena comprato! Allora fuori di qui! Che maniere! Fuori di qui! Come no! Adesso che ci penso! Ci sono! Scusami orsacchiotto! Scusami orsacchiotto ma... Devo ritagliarti sul dorso! Così! Togliamo un po' di imbottitura! E adesso prendiamo una bustina e la sistemiamo qui dentro! Poi ci metto lo zucchero filato in questo modo! Grazie dell'aiuto orsacchiotto! Perfetto! Si va in scena? Riproviamoci allora! Signorina, ferma! Che cosa c'è? Non vado da nessuna parte senza il mio orsacchiotto! È necessario? Va bene! Non ne dico bugie! Sì! Puoi passare su! Bravo orsetto! Jennifer! Oh, ciao! Sono venuta qui a tirarti su il morale! Sei la migliore! Però... Vorrei avere qualche dolcetto! È il tuo giorno fortunato! Apri la zip e vedrai! Sembra imbottitura ma è vero zucchero filato! Annie? Guarda! Ho sostituito l'imbottitura con lo zucchero! Giuro, provalo! Sei sicura? Ehi! È davvero zucchero filato! Ma come ti vengono certe idee? Mi sta bene questa frangia? Chi è? Mai vista prima! Però... Che capelli favolosi! Sta guardando me? Senti, voglio la risposta per lunedì! Un attimo! Che ne dice di 50? Il mio cliente è fermo a 50! Scusi, non sta nascondendo cibo, vero? Ma non vede che sono al telefono! Oh, certo! Mi scusi! Che coraggio! Sono importante! Ho due telefoni! Per un pelo! Ha sbagliato stanza? No, sono io! Annie! Oh, ciao! Pensavo volessi compagnia! C'è un regalo per Jan! Si tratta per caso di cioccolata? Ho usato la custodia, vedi? Poi, ho ripiegato la confezione per farla calzare a pennello! E... Miam! Che cos'è questo faldone? Oh, beh! Sarà di quella signora! Mi scusi? Ha dimenticato il... Ma che succede qui dentro? Cavolo, ci ha beccate! Mi hai presa in giro! Non farti vedere qui mai più! Bel tentativo! Che peccato! Che bello il mio sacchiotto! Arriva la cena! Hai fame? Te la lascio qui, va bene? Potrai mangiare quando ti svegli? Il cibo dell'ospedale fa schifo! Ecco che arriva il mio! Dovrò mangiare il mio sacchiotto! Dovrò mangiarlo per forza! Grazie! Sono io! Ciao! Jennifer! Ciao! Non assaggi la tua cena? Questa qui? Ehm, ok! Che strane polpette! Guardale meglio! Ma sono cioccolatini! Sorpresa! Prendi delle strisce gommose come queste! Ne bastano poche! E poi tagliali a metà in questo modo! Così! Attentamente! Fai un bel malloppo e mettile sul piatto! Poi prendi dei cioccolatini e mettili sul piatto insieme alla pasta! Niente male, vero? Gomme! Benissimo! Missione compiuta! Adesso anche tu sai come intrufolare le tue merendine preferite in ospedale! Condividi il video con i tuoi amici! E iscriviti al nostro canale YouTube per altri video come questo! E iscriviti al nostro canale YouTube!